Ritardi e omissioni nella rendicondazione dei bilanci 2012, 2013 e 2014. Questa è, in buona sostanza, l'accusa che i giudici della Corte dei Conti rivolgono alla regione Abruzzo e che hanno fatto arrivare al punto di chiedere lo scioglimento del Consiglio regionale in base agli articoli 120 e 126 della Costituzione. Nel documento depositato lo scorso 20 luglio, i giudici contabili parlano di comportamento omissivo tuttora esistente da parte della regione Abruzzo poiché, scrive la Corte dei Conti, non risultano pervenuti né la bozza di rendiconto nell'esercizio 2013 né la bozza di rendiconto del 2014. I giudici sollevano anche dubbi sulla regolarità dei documenti trasmessi. Insomma, in Soldoni, il bilancio della regione Abruzzo poggerebbe le sue fondamenta su un terreno non stabile, fatto di un avanzo presunto e non accertato in documenti formali consuntivi. L'assessore al bilancio della regione Silvio Paolucci ha gettato acqua sul fuoco della polemica minimizzando il pericolo di scioglimento del Consiglio regionale. Secondo Paolucci, alcuni dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti sarebbero già stati superati dalla regione che può far forza anche sul risanamento portato avanti in questi anni. Ora la parola passa al Consiglio dei Ministri, che avrà una relazione del Ministero competente. Tre sono i possibili scenari. Roma accetta le argomentazioni dell'ente regione concedendo un tempo per ottemperare. Poi c'è l'eventualità di un commissariamento del bilancio oppure l'attivazione dell'iter per lo scioglimento del Consiglio regionale.